E allora, volevo comunicare, guardia di finanza di Partirico, venite a vedere il palo sostituito, venite a vedere l'autorizzazione dell'ANAS che hanno fatto scomparire, quel mafioso probabilmente già indagato in passato per mafia, consulente, venite a chiedermi del pizzo che c'hanno che sono assessorato attività produttive, non lasciateci, non abbandonateci, la mafia ci sta cercando di annientarci, di fare fallire la società, di ammazzarci, sta tentando in tutti i modi di toglierci di mezzo, utilizzando attentati, intimidazioni e avvocati in tribunale con falsi processi per farci condannare, ma fortunatamente ci sono pure dei magistrati onesti che ci hanno protetto fino ad oggi, non sappiamo quanto possiamo resistere ancora. Lei è? Giuseppe Barone. Parliamo di cosa? Parliamo di mafia, la nuova mafia a San Giuseppe Iato, Castelvetrano e Palermo. La nuova mafia è quella che non utilizza più il... Sparare. Sparare ma utilizza gli avvocati con processi falsi fatti per cercare di appropriarsi e impadronirsi delle aziende. I fatti. I fatti. I fatti che questa azienda ha avuto un'azienda normale che appartiene al popolo, ha avuto l'autorizzazione per impianti di carburante, però in Sicilia gli impianti di carburante debbano avere solo poche persone per poter raddoppiare il prezzo, perché se la distribuzione degli impianti è affidata a molti, a persone normali, magari non sarebbe due euro e cento il prezzo, ma ritornerebbe normale a un euro e quaranta, quindi non si potrebbe rubare soldi alle persone. Quindi che succede? Questa azienda che ha avuto nel 2012 l'autorizzazione da parte dell'assessorato all'attività produttive e dall'ANAS per fare impianti di carburante ed entrare dalla Palermo-Sciacca al chilometro 21 più 662. Siamo subito dopo, diciamo, sopra San Giuseppe. Lo svincolo degli albanesi e lo svincolo di San Giuseppe. Quindi le persone entravano qua e dovevano fare il comportamento? Sì, acquistavano i prodotti agricoli di qualità, possibilmente dormivano con un motel, quindi si sviluppava il turismo per il montaiato e l'attività enogastronomica, perché questa società ha le impianti di vigneto e la cantina, quindi un progetto tutto completo per essere funzionale, creare lavoro, ampliare il lavoro che già si sta sviluppando. Invece, delle persone che già... Partiamo dalla scomparsa dell'autorizzazione ANAS. Dico, già c'era una persona che da ricerche fatte è stata indagata, in passato per mafia, perché si spartivano i soldi degli appalti. Adesso, anziché si presume che sia lui, perché è sempre il suo ufficio, ha fatto scomparire l'autorizzazione di questa società, per cui si sono... Per aprire l'apertura... Per aprire l'apertura dalla Palermo Sciacca, quindi poter fare lavori, dopo che questa società paga canone dal 2012 fino al 2020, ha pagato per 6.500 euro l'anno, loro poi hanno fatto pagare la metta perché metta non c'era occupazione. Scusami, tutti questi mezzi distrutti dal 2012 che sono qua per... No, questi sono fermi da due anni, da quando è stato chiesto di iniziare, anzi si è trasmesso l'inizio lavoro per la fascia di ANAS, perché alcuni lavori ci erano fatti, si è affacciato al capocantoniero da là e ha detto, se fate lavoro vi roviniamo con multe, e quindi uno si è fermato aspettando questa autorizzazione, no, questa autorizzazione c'è, questo benessere è iniziare il lavoro su un'autorizzazione che già c'è e che loro dicono che non ci sia, sebbene c'è un numero e una autorizzazione, è presente anche sul portale dell'ANAS, sul portale dell'ANAS ci sono i pagamenti, quindi non si capisce come siano scomparse o dicono che non ci sia l'autorizzazione, dopo che si sono pagati 30.000 euro di canone dal 2012, ora si sono pagati 30.000 euro, già canone e cauzione. Ma lei truffe ne ha avuto fatte tante, iniziamo da questo paleologo per esempio. Il paleologo che sapendo che noi abbiamo avuto sempre la mafia sopra che si vuole impossessare, questa azienda è stata acquistata direttamente dagli Stati Uniti, è transitata dalla Dogana, la ditta che doveva venire a consegnarla, una ditta di Catania che era caricata su ciotocarri con i sigilli doganali, anziché venire a consegnare qua, noi abbiamo scoperto una lettera che nascondeva il nostro ex avvocato denunziato per frode e abbiamo scoperto che l'ha consegnato al vecchio concessionario, il concessionario anziché portare al palo quello nuovo, bello, che produceva di 24 metri e 40 di diametro, se probabilmente si è smontato uno più vecchio, più piccolo che aveva lui e l'ha portato. La sostituzione al 99% tra il palo questo che è il 1021 con il 1010. Di tutto quello che parliamo è tutto denunziato, però c'è qualcuno che lo tiene bello calmo, nell'attesa che ci tolgano di mezzo, in tutti i modi. Lei ha subito anche attentati incendiari, ne ha avuto fatte di tutti coloro? Ci sono stati tentati omicidi, minacce a donne, bambini, tutti denunziati, hanno cercato di falsificare documenti per metterci in galera e hanno provato per il giudice, fortunatamente abbiamo trovato persone onese, che si sono accorti di tutto e hanno annullato le tentative di queste mafiosi, supportate da persone, che hanno cercato di infangare, perché prima ti vogliono distruggere l'onore per poi poterti colpire ed affondare, sia in maniera economica che in maniera processuale, con delle false denunze. Ma a proposito di magistrato com'è che non si interviene in maniera massiccia? C'è un'anomalia, l'anomalia è che tutte le denunze che sono state presentate sono andate a finire a un unico magistrato, il quale, inespiegabilmente, magari c'era pure il vecchio avvocato che gestiva, sono messe tutte congegnate, sebbene si facciano nome, cognome, fatti, atti, messe là, tutte cose, sono ferme congegnate e ultimamente c'è un'accelerazione, visto le richieste che abbiamo fatto e soprattutto abbiamo mandato tutte le copie delle denunze a tutte le prefetture, alle questure d'Italia. Ora abbiamo chiesto ieri un appuntamento alla Diaz, abbiamo chiesto appuntamento al prefetto che ritarda ad incontrarci, non capisco il motivo, probabilmente sanno che abbiamo ragione. San Giuseppe Iato è un comune commissariato, non capisco per quale motivo il commissario che è un vicepresetto di San Giuseppe Iato, vedendo una scritta come questa, ogni giorno non dica che cosa è successo, almeno chiedere cosa è successo, poi dice voi siete persone, non siete persone per bene e vi lasciamo o avete ragione come hanno detto molte magistrate quando ci volevano incassare. E quella è la domanda che facciamo. Abbiamo chiesto l'aiuto della televisione affinché si dia pubblicità a questa cosa per ufficialmente chiedere un incontro al prefetto, chiedere alla guardia di finanza di Partenico che venga finalmente a vedere il palo e non qualcuno che ci dica non dovete più venire o qualcuno alla guardia di finanza di Palermo che ci dica finanza 2, non dovete più venire, una persona, non qualcuno. Perché noi siamo in piedi, perché molte persone delle forze dell'ordine ci hanno bene consigliato, molte persone all'interno del tribunale ci hanno bene consigliato, però siamo vittime di pochissime persone. Com'è che non siete falliti? Non siamo falliti perché già siamo abituati ad attacchi della mafia. Qua San Giuseppeata ha sempre governato la mafia di Brusca, non vedo di sacchi da prima ad ora, anzi vedo, ho fatto accesso agli altri, al centro commerciale, il mulino che è stata data ai familiari di Enzo Salvatore e Brusca. Quel centro commerciale gli hanno dato 2 milioni 140 mila euro di contributo pubblico e loro hanno messo i 140 mila euro. Per fare questo tipo di richieste io sono stato condannato a morte da queste persone. Sia economica che... Il problema è che finché venivano come facevano prima a sparare calopare niente succedeva. Io me ne andavo, la mia famiglia era tranquilla. Adesso non guardano più in faccia né bambini né donne, niente. Io non lo permetto e lotterò fino all'ultimo goccio di vita e di sangue che mi rimane per denunziare quello che sta succedendo. La procura di Palermo mi deve ricevere. Io che ho denunziato, che hanno chiesto il pizzo tangente, abbiamo denunziato il pizzo tangente per l'assessorato attività produttiva. Ecco, questa era la prossima domanda. Parliamo di questo pizzo all'assessorato. E allora, ci sono stati consulenti. Nel 2017 voleva nel 3% su un progetto già fatto all'impianto di carburante perché abbiamo detto che è autorizzato dal 2012. Con nome e cognome queste persone, giusto? Certo, tutte sono nelle denunze. In nome e cognome le faccio ora, però sono tutte denunze. E sono ancora al loro posto. Sono al loro posto e hanno addirittura, gli sono stati con una falsa dichiarazione dell'avvocato che è denunziato, che ha dichiarato richiesta di saldo come se l'impianto fosse finito, gli sono stati assegnati in via professore perché avevano richiesto di 100.000 euro, 40.000 euro. La società ha pagato perché è una disposizione del giudice, anche se è stata presa in giro da questo signore, va rispettata. È stato pagato nella causale del bonifico, credo che sia l'unico in Italia. C'è scritto per truffe ed estorsioni. Quindi solo questo basterebbe far partire un'indagine. C'è però tutto feo. Anzi, per rallentare la tensione che c'è su Palermo, Monreale, e che c'è un'assa San Giuseppe, Monreale e Palermo, tribunale, e hanno cominciato a fare invasione di terreno a Castelvergiano. Hanno interessato pure la mafia di Castelvergiano, con cui la mafia di San Giuseppe e Atosone, in Venera, con un'invasione di terreno. Tutte denunziate questa invasione. dopodiché hanno chiesto un'altra truffa, una frode processuale, un'estorsione al Tribunale di Marsale, che ora si trovano male, di 200 mila euro, nella speranza di fare fallire. Siccome le denunzie sono state mandate pure a Bologna, dove questi signori hanno 25 negozi, e prima lavoravano con i migranti, facevano avere dei trafficking con dei circhi, non si capisce bene. Queste sono tutte notizie che abbiamo appreso da guardando su internet, che hanno avuto questi indagini e questi processi. Dico, è chiaro che... Scusa, per concludere, perché poi se no le persone non capiscono. Noi facciamo un po' il punto della situazione. Da quanto tempo lei denuncia tutto questo? Più di due anni. Più di due anni a fare denunze noi non possiamo... Ma ad oggi non c'è un procedimento, non c'è uno... Sono fermi, in procura... Fermi? Fortunatamente hanno chiesto... Aspettano che lo ammazzino per... Aspettano che mi ammazzino, che fanno fallire la società, così nascondono tutte le delinquenze che hanno commesso, tutti gli atti che hanno fatto, le autorizzazioni scomparse. Dice che la giustizia cedere. Sì, è veloce solo a farci scomparire. Ma non è la giustizia, perché voglio dire, le persone la... Trovo corrispondenza. Sono pochi, perché non è la cosa strana, che le denunze finiscono sempre in un filone, perché chi archivia è quasi sempre lo stesso GIP, chi prende le denunze è quasi sempre lo stesso PM, e qua comincia a puzzare un po' la cosa. Perché se tu hai 20 denunze, non penso a 20 PM, è diverso a almeno 4 o 5, non un solo PM, o due o tre PM, che sono nella stessa... Sarà quello per competenza per San Giuseppe? Non lo so. Siccome le competenze vanno per tipi di reato, non per territorio, e qua abbiamo tutti i tipi di reato, dalla flotte processuale all'istorsione, alle menacce, al tentato omicidio. Anzi, dico un'altra cosa, che quando facciamo le denunze, chi viene denunziato, ci denunzia a sua volta, o per calunno o per diffamazione, sapendo bene quello che è stato denunziato, quella nostra va con Rignote, e generalmente io sono quello che mi prendono di mira, perché cercano di farmi passare per una persona violenta, cosa che non sono, perché uno che subisce da tanti anni queste soppruse, risse mafiosi di San Giuseppe Iato, che sono sempre gli stessi, sono gli stessi mafiosi che hanno assassinato Giovanni Falcone, Capitano Basile, D'Aleo, e io gli ho mandato pure questo fatto, e che hanno sciolto il bambino nell'Acio. Per premio gli hanno dato un centro commerciale a San Giperrello e il mulino, dopodiché questo mulino se lo sono venduto e ora quelli che l'hanno venduto l'hanno sequestrato perché hanno scoperto che sono mafiosi, però con il loro caseificio continuano a fornire, fornivano questi, quindi è un'altra cosa che non posso neanche uscire, perché c'è sempre qualcuno che ha notato, vorrebbe annotare che si è visto con quello, allora per evitare l'invenzione cerchiamo di fare, ci hanno provato in tutti i modi, cercando di fare una cosa. Giovanni Brusca vorrebbe per il vero, no? Beh, secondo me la sua presenza qua non si è mai sentita mai la mancanza della presenza perché è sempre stato, almeno i suoi uomini sono stati sempre a San Giuseppe Iato, io tra l'altro ho subito il tentatomeficito dal compare di nozze del fratello Emanuele, dico per capire in quale ambito ci stiamo muovendo. Per concludere fai un appello. Io l'appello è all'istituzione a quale ci siamo sempre rivolti, dopo due anni mi rivolgo ai media perché oggi sarà mandato pure a tutti i media nazionali, già ho mandato la mail a tutti i deputati di Europa e d'Italia di queste cose perché si deve sapere lo schifo che sta succedendo in Sicilia, dove secondo alcuni la vita delle persone vale meno di un impianto di carburante o di un paleologo. Ci hanno trattato a noi siciliani, italiani, europei, ci riempiamo la bocca e la nostra vita non vale più niente, siamo carne da macello, ci hanno messo come carne da macello e aspettano solo che ci macello. È un peccato dire questo. Io chiedo, non lo so, c'è il tempo di chiamare la prefettura a chiedere l'incontro, è già stato fatto, però con calma, loro se la prendono calma, non so. L'ultima è stata fatta il 5 settembre. La guardia... Qua stanno cercando di darci fuoco, qua si vede che è qua davanti, si vede qua per la cantina, si vede l'incendiario, cercano gli incendiari. Qua hanno dato fuoco all'azienda agricola là sopra, parliamo di 18 agosto, questo è il 22 agosto, poi fanno dei tipi di attentato che sono difficilmente presentabili. Tipo, in quell'escavatore rossa hanno messo il doppio dell'olio, cioè hanno aggiunto olio bruciato, il doppio così, se si accende si brucia l'escavatore. In questo trattore rossa hanno aggiunto del gasolio nell'olio, ci siamo accorti perché il gasolio brucia le guarnizioni. Ora c'è quell'escavatore, stamattina abbiamo trovato un'antenna là sotto e non accende perché si voleva prendere la trevella, cioè ci sono tutte... E qua avevano messo della carta dell'olio bruciato nel gasolio, sono tutti quegli attentati che ti dicono che sono presenti. Quando è venuto il perito, per essere il paleologo perito che ha dichiarato cose false ed è pure denunziato delle generali per non fare pagare sia il danno all'impianto fotovoltaico che al paleologo. Noi non abbiamo il manuale di uso e manutenzione quella turbina, la compagnia Norton non ce lo dà, quindi è a rischio, crollo e rischio strage, come prevede la legge, però il perito delle generali ha dichiarato che aveva acquisito i documenti della turbina. Se non li ha l'azienda, come fa questo ad acquisire questi documenti? Cioè sono tutta una serie di domande per cui non siamo ricevuti perché le autorità dovrebbero dare delle risposte. E aspettiamo queste risposte. Qua abbiamo... L'azienda ha acquistato un camper, ha messo due bare e ha fatto un tour della legalità, della sensibilizzazione fino a Milano, perché qua non ne hanno gente vigliacca, purtroppo loro sono abituati con gente che ha paura. Qua gente che ha paura non ce n'è. Se avete il coraggio mettete la lupare come prima, non mandate gli avvocati a fare le truffe o le istorsioni o i consulenti. Così, venite a sparare, per come si spara la mafia, perché è peggio di sparare questo.